Oggi mi sposto a Parigi perché il 20 maggio del 1726 vi nasceva il pittore Gabriel François Douayen che fu autore di grandi composizioni storiche, religiose e anche di ritratti. Ottenne l'ambito Prideron nel 1748 che gli consentì di completare la sua formazione artistica come pensioner dell'Accademia di Francia e poco dopo lo scoppio della rivoluzione francese a giudicare poi dal successo e dalla fama che aveva conseguito l'artista scelse di trasferirsi a San Pietroburgo dove diventa il pittore di Caterina II nonché direttore della locale Accademia di Belle Arti. Fu inoltre tra i primi ad essere ammessi all'Accademia di Parma che era un'istituzione fondata nel 1757. Il legame con la città emiliana si deve certamente a Luisa Elisabeth che era la figlia di Luigi XV divenuta ufficialmente duchessa degli ex-domini farnesiani nel 1749. A Parma è peraltro conservata una grande tela di Douayen rappresentante la morte di Virginia ricavata da Tito Livio che misura 3,83 m d'altezza per 6,60 m di base. Fu commentata da Diderot nel Salon del 1759 con queste parole quindi la tela fu tra i primi acquisti effettuati dal duca Filippo di Borbone per le raccolte ducali dopo che i palazzi erano stati spogliati delle grandi raccolte storiche farnesiane portate come si sa a Napoli nel 1734 dall'ultima discendente della casa farnese cioè Elisabetta che come è noto sposò Filippo V di Spagna. Il ricordo qui delle grandi composizioni storiche di Paolo Veronese, le architetture, i gesti che rinviano alla lezione di Taffaello sia pure filtrata dal Domenichino e da Charles Lebrun fanno di questa composizione un capolavoro dell'arte francese di metà settecento. Ecco, lo scorso anno si è provveduto, questa è una curiosità, al restauro della cornice della grande tela in legno dorato e intagliato realizzata su disegno dell'architetto Enemond Alexandre Petiteau, una cornice che pesa oltre 200 kg e si può trovare il video di questa complessa operazione sul sito della Repubblica, ecco, dove si vede appunto il riposizionamento della cornice intorno al dipinto.